Gli Ilienzi della Sardegna sono un popolo antico e indomito. Un tempo vivevano sull'isola della Sardegna con altre tribù loro consanguine, ma poi giunsero i cartaginesi che rivendicarono i territori costieri. È giunto il momento di ribellarsi e ricacciare gli invasori insolenti nel mare da cui sono approdati. I balari hanno spesso giurato di essere amici degli Ilienzi, eppure, quando si arriva al dunque, potrebbero esitare. Risveglia la loro forza nell'imminente lotta, oppure conquistali e prendi la loro terra. La Sardegna è la prima arena della battaglia, sii degno del Sardus Ater. Ciao a tutti, benvenuti su R2 Totanguola, siamo qui oggi con la Sardegna. Con i Sardi hanno vinto 8 a 6 nelle votazioni contro Taranto. E il nostro obiettivo è di cacciare i cartaginesi. Allora. Cominciamo con ora. Andiamo se riesco a condizionare. Vediamo se riesco a condizionare. Bene, almeno potremmo aiutarci. in caso di pro-poemi. Ok, andiamo qua. Costruiamo anche qua una cava di marmo. La destriamo intanto qua. Bene, i cartaginesi attaccano i banali, e quindi noi andiamo in guerra. Iniziamo bene. Buongiorno. No, 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 no. Le pa groundwater Julian said. Grazie a tutti. 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 Io pensavo che potessi fare una battaglia così, invece no. Vabbè. Allora, una prossima battaglia ovviamente la farò, giustamente. Oddio! Proprio modalità protezione. Ci incontriamo. Vieni anche tu. Ah, proprio così possiamo vincere. Va bene. Tanto io ti tengo circondare. E ci giochiamo. Questa battaglia. Speriamo che vada tutto bene. Un'altra, 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 un'altra. Un'altra, 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 un'altra. Grazie a tutti. 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 Noi dobbiamo solamente aspettare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi.